eccoci ad una nuova lezione di italiano per tutti e in questa lezione andiamo a parlare del personaggio del personaggio famoso e qui siamo a un personaggio veramente veramente unico perché è un grandissimo compositore di musiche da film e non solo e in questa lezione vedremo la sua storia la storia della sua vita e di tutti i suoi successi musicali parliamo di ennio morricone è un personaggio nato nella regione lazio e quindi è legato alla regione lazio che avete ovviamente già visto nelle lezioni precedenti e andiamo subito a parlare di ennio morricone ennio morricone nasce a roma il 10 novembre del 1928 all'età di dieci anni ennio inizia a frequentare il conservatorio studiando la tromba in seguito aggiunge lo studio di composizione musica corale e direzione di coro dopo gli studi inizia a suonare come trombettista nelle orchestre e nel 1955 comincia a collaborare con la casa discografica rca come arrangiatore l'anno successivo si sposa con maria travia dalla quale avrà quattro figli il suo contributo nella musica italiana degli anni 60 è fondamentale dalla sua collaborazione con artisti come mina edoardo vianello rita pavone polanca gino paoli gimmi fontana gianni morandi nascono alcuni dei capolavori musicali italiani di quegli anni gli anni sessanta sono molto importanti anche per la sua collaborazione con il regista sergio leone che aveva studiato con lui pensate alle scuole elementari morricone compose le colonne sonore di tutti i film di leone firmando i brani musicali più famosi nei film di genere western per un pugno di dollari nel 1964 per il quale vincere il suo primo nastro d'argento e poi per qualche dollaro in più il buono il brutto il cattivo c'era una volta al west giù la testa fino a c'era una volta in america per il quale il compositore sarà premiato con il bafta dalla seconda metà degli anni sessanta l'attività di egno morricone si sposta sempre di più da quella di arrangiatore a quella di compositore per il cinema tra le sue composizioni di quel periodo ricordiamo quelle con i registi italiani bernardo bertolucci pier paolo pasolini marco bellocchio dario argento e lina bertmuller a partire dagli anni settanta morricone inizia a lavorare anche con registi internazionali come don sigel henry vernell francis giro alfonso balcasar tra gli anni 80 e gli anni 2016 la carriera di egno morricone conta innumerevoli contributi musicali per i film italiani e internazionali per i quali riceve i più importanti riconoscimenti artistici come il nastro d'argento il david di donatello il golden globe il bafta e alcune candidature agli oscar per citare solo alcuni dei suoi lavori di quel periodo ricordiamo la colonna sonora per gli intoccabili di brian de palma nel 1987 mission di roland joffet del 1988 nuovo cinema paradiso del 1988 la leggenda del pianista sull'oceano entrambi di tornatore scusate del 1999 ricordiamo anche canone inverso di richi tognazzi del 2000 malena di giuseppe tornatore del 2000 e baria sempre di tornatore ma del 2010 fino al recentissimo the hateful hate diretto da quentin tarantino per cui le musiche di morricone per cui per le cui musiche morricone è stato premiato con l'oscar nel 2016 inoltre nel 2007 il compositore aveva ricevuto il premio oscar alla carriera quindi ecco c'è ancora una slide scusate dal 1999 ad oggi la carriera di morricone si distingue anche per molte importanti esibizioni come direttore di orchestra ennio morricone ha composto le colonne sonore di più di 500 film e serie televisive adattando la sua musica ai generi cinematografici più svariati western thriller fantascienza commedia melodramma oltre ai premi già citati il compositore ha anche ricevuto nel 1995 il leone d'oro alla carriera in occasione della mostra del cinema di venezia finora è l'unico compositore ad aver ricevuto questo premio nello stesso anno gli viene anche conferita l'onoreficenza di commendatore dell'ordine al merito della repubblica italiana e nel 2016 gli viene attribuita una stella nella famosa walk of fame hollywoodiana quindi anche lui ha messo la mano sulla piastrella dove gli hanno appunto messo la stella dei dei più prestigiosi attori produttori e collaboratori della dell'industria cinematografica americana sempre nel 2016 morricone ha pubblicato la sua autobiografia scritta in collaborazione con alessandro de rosa inseguendo quel suono bene signori cosa dire d'altro cioè ne abbiamo viste tanti di personaggi fino ad oggi però sicuramente questo è uno dei più stellati ecco degli degli italiani più stellati come ad esempio un altro poteva essere pavarotti però ahimè pavarotti non c'è più non è più tra noi ci ha dato molto nero mai che morricone c'è ancora ci ha dato molto speriamo che ci dia molto altro ancora personalmente ritengo che i due più grandi compositori di musiche da film siano john williams e ennio morricone poi molti altri bravi ma i re diciamo principali fautori delle migliori musiche da film sono questi due personaggi e uno di questi è morricone mi viene semplicemente in mente una un aneddoto che avevo letto riguardo morricone questo ve lo racconto fuori dalla dalla lezione diciamo scritta che morricone ha lavorato per un breve periodo per la per la televisione italiana la rai e la televisione italiana subito dopo avere collaborato negli anni 60 con alcuni dei famosi musicisti cantanti italiani che abbiamo letto all'inizio bene lui era compositore quindi stava scriveva e arrangiava brani quindi era molto impegnato e quando ha iniziato a lavorare per la rai appunto il suo contratto per la rai con la rai è durato esattamente un giorno perché 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 sostanzialmente la televisione nazionale italiana si è presa si pretendeva l'esclusiva quindi lui avrebbe dovuto lavorare esclusivamente per comporre musiche per gli spettacoli o comunque per la televisione e avrebbe dovuto appunto chiudere con quello che era il suo passato di arrangiatore di compositore e di collaborazioni con tutti i cantanti italiani e non quindi nel momento in cui lui ha scoperto che non avrebbe potuto fare quello che lui veramente era era il suo hobby diciamo che poi non è solo un hobby però quello che gli piaceva fare cioè comporre e arrangiare ma doveva solo lavorare per la televisione lui lo stesso giorno ha detto addio e arrivederci ci vedremo probabilmente più avanti poi non si sono credo più visti non si sono prodotto collaborazioni tranne che concerti o apparizioni ma non direttamente dipendente dalla televisione italiana quindi questo è un aneddoto per dire che non aveva sicuramente bisogno di essere imprigionato dentro la televisione perché aveva potenzialità che ovviamente con gli anni poi ha sviluppato e ci ha dimostrato di essere in grado di ovviamente di dimostrare egno moricone personaggio della del cinema e della della regione lazio bene spero che vi sia piaciuto se volete altre altre notizie sul personaggio cercate su sicuramente troverete molto su wikipedia o su ebay o su altri canali comunque sono sempre disposto a sia per l'italiano per quanto riguarda la lingua italiana e per quanto riguarda la cultura i personaggi a raccontarvi qualcosa di più quindi chiedete pure come sempre vi chiedo io io vi chiedo un like e un seguimi sul canale ci vediamo presto con nuove lezioni ita per tutti punto blogspot.com facebook twitter youtube ci vediamo presto con italiano per tutti ciao ciao